Ciao! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 16 del Livro Shea, che è valido fino al 27 dicembre 2016. Quindi questa è anche l'ultima occasione per poter acquistare anche dal catalogo di Natale e potete farlo tranquillamente assieme. Allora, in questo album troverete tante offerte, tante promozioni, tanti set regalo, soprattutto ideali per gli acquisti dell'ultimo minuto e con l'acquisto dei vostri prodotti make-up preferiti troverete in omaggio anche il pennello da cipria che è wow! Io direi di non esitare oltre e andiamo a sfogliare il catalogo. Allora eccoci, diciamo iniziamo subito. Vediamo. Ecco, la prima cosa è che con 25 euro di prodotti make-up che ora vi faccio vedere si ha in omaggio il pennello da cipria con la custodia ed è davvero molto molto carino. Ora vi faccio vedere, ecco, tra tutti questi prodotti come i primer, i correttori, il fondotinta, i vari tipi di fondotinta, ecco, i blush, la cipria, le saggiettine, terre, cipria in polvere, primer, tutti gli ombretti, tutti gli ombretti, sono davvero tantissimi, oppure ed è questo qui che è l'ombretto waterproof, le matite occhi, il cagiale, l'eyeliner, le matite per sopracciglia, gli altri colori delle matite occhi, i mascara, i rossetti, tutti i colori, e gli altri rossetti e intanto ne approfitto per farvi vedere il primo set che comprende, e fa sempre parte dei 25 euro che si può avere il pennello in omaggio, il set comprende il primer labbra che fa un effetto opacizzante più il rossetto grand rouge, eccolo qui, a 17,95, è molto bello come effetto matte. Andiamo avanti con gli altri rossetti, le mattite labbra, i smalti, i trattamenti e gli altri trattamenti unghie. Ok? Fino qui e fino a questa pagina dove c'è il set, l'altro set, questo paio per le unghie, dove si ha la base, esso essere rinforzante, più lo smalto effetto gel e si sceglie il colore tranquillamente. Quindi, fino a questa pagina, 25 euro e si hanno omaggio il pennello per le ciprie. Vediamo ora le altre offerte. Eccolo qua, il primo set dice Preparati al Capodanno, è il set Anti-Age Global, 27,95, che comprende la maschera anti-età più la crema fondamentale giorno. Iniziamo con il set per i profumi, perché abbiamo, ad esempio, il primo questo che è il Neroli, 29,95, abbiamo il L'Eau de Parfum da 50 ml, più l'Eau de Parfum da 15, perfetto, l'atelier in borsetta, e poi il prezzo davvero ci sta. E ovviamente c'è anche le altre performazioni, quindi il suo elixir purple, quindi sempre quello grande, c'è il 50, più quello piccolo, l'Eau de Parfum, in questo caso il Vapo da 5. Ecco il suo elixir, stessa cosa, il grande più il piccolo, Continua la promozione dei Balsami Labbra, delle Limited Edition Macadamia del Guatemala, stessa è sempre aiutando le donne del Guatemala, quindi si fa anche una buona azione, e i due Balsami Labbra a 3 euro, quindi il primo col codice nero, il secondo col codice rosso, per avere due a 3 euro, e si possono scegliere tutte e tre i colori. Altro set, sempre per il capodanno, il set trattamento vegetale corpo, 12,95 si ha il gommage vegetale, più latti e nutriente. Continua la promozione dello shampoo lucentezza, questo a 3,95, perché uno shampoo acquistato, un albero piantato, è una promozione che tutti gli anni Evole Chef fa, e quindi con un piccolo contributo, abbiamo un buon prodotto per i capelli, e aiutiamo anche il pianeta. Vediamo ora il set, sempre per il capodanno, per i capelli ricci, 12,95, e comprende lo shampoo ricci definiti, il balsamo ricci definiti, e lo spray modellante. Stessa cosa anche per i set capelli lisci, ovviamente, sempre 12,95, il shampoo lisciante, il balsamo lisciante 48 ore, e il siero lisciante 48 ore. Andiamo poi in promozione a 3,95, ecco il low shampoo, che è uno shampoo crema delicato, assolutamente senza siliconi, solfati, coloranti e parabeni, perfetto da usare anche tutti i giorni. Questo era tutto il catalogo. Eccoci, allora abbiamo sfogliato tutto l'album, come sempre qui sotto c'è il link per contattarmi, per le informazioni, per gli ordini, tranquillamente, come sempre, e c'è anche il link per scaricare in formato PDF il vostro album, così potete tranquillamente guardarlo sul computer, tablet, smartphone, con calma. Ed vi ho letto tutto, vi ricordo anche l'album di Natale, che è sempre nel link qui sotto, e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con le magiche autore del mondo di Brochie.